John Borno, John Borno, allora oggi sono qua per tirare un po' di somme perché effettivamente quest'anno la Roma al di là di tutto non possiamo negare come un pochino ci stia facendo sognare. La gente si lamenta, ma si lamenta sempre, si lamentano i non romanisti parlando di un murigno bollito, di un murigno che non ha più la bussola, che non ce l'ha mai avuta, di un murigno che non è adatto, di un murigno che è finito. Vabbè, fatto sta però che in questo momento la Roma è terza in classifica, in realtà è quarta perché il Milan ha vinto, ma se dovesse disgraziatamente stasera battere la Cremonese la Roma andrebbe seconda in classifica, pari in merito con Inter e con Milan. Quindi effettivamente al di là di pensieri personali, perché poi i pensieri personali ci stanno, sono giusti, sono corretti, sono accettati, perché raga se tu c'hai un pensiero, è il tuo pensiero, io alzo le mani e seppur io possa non condividerlo, comunque lo comprendo ugualmente. Però poi ci sono le statistiche, poi ci sono i dati e i dati sono incontrovertibili. Ecco allora questa Roma mi sta facendo sognare e io oggi non faccio, è il mercato che farei, sia chiaro siamo a che giorno è oggi, il 28 di febbraio, quindi mancano tutto marzo, tutto aprile, tutto maggio, tutto giugno. Bisognerà capire la Roma dove si piazzerà in campionato, mediante il piazzamento di campionato bisognerà capire se Mourinho rimarrà, se Di Bala vorrà rinnovare il suo contratto e tante situazioni per cui poi la Roma si muoverà sul mercato in base appunto a particolari svolte. Ecco allora oggi volevo fare una chiacchierata, volevo dirvi fatemi sognare, vi spiego un po' in disamina quello che andrei a fare, una chiacchierata. Zaniolo già se ne è andato e quindi ce ne siamo levati, ce lo siamo levati e si è levato un peso. Io penso che bisognerà cedere ufficialmente Vigna che se non sbaglio non è partito ufficialmente, è un presido, tornerà. Io purtroppo cederei anche Llorente oggi perché raga dispiace, magari quando rivedremo questo video tra sei mesi si potrà parlare di un difensore forte, di un difensore utile per la Roma, di un difensore indispensabile. Magari qualcuno parlerà anche di uno Smalling che finalmente potrà andare via, per me è follia Smalling che deve rimanere rinnovato il suo contratto a Smalling e non mi fate incazzare. Ma oggi ragazzi Llorente per quanto sia arrivato per fare il difensore, il quinto di difesa al posto di Vigna, ragazzi Llorente non gioca mai. Llorente non gioca mai. Allora visto che Llorente non gioca mai mi domanda e dico perché Llorente non gioca mai? Perché Murigno ha poca fiducia in Llorente e quindi faccio oggi questa valutazione qua. Via Cumbulla che sia un prestito o che ci ridiano i soldi che abbiamo speso. Io penso che Cumbulla al di là di prese in giro, di ironie varie, messo in un contesto in cui poteva rendere, renderebbe. Cioè se Cumbulla, io scherzai con la Lazio quando la Lazio provò a prendere Cumbulla per un mese e mezzo, poi in due giorni la Roma andò da Cumbulla e se lo portò a casa. Spendendo molto di più, sia chiaro, la Lazio offreva 12, 18, noi lo pagavamo quasi 30, tipo 23, più bonus poi mai pagati. Quindi nel senso è normale che scelse la Roma. Però io credo, e ve lo dico in questo momento da persona che parla di calcio e non prettamente da romanista, se Cumbulla fosse andato alla Lazio con lo spazio che aveva la Lazio, con le poche pretese che la Lazio aveva. Perché io parto sempre dal presupposto che la Lazio sia una squadra con poche pretese, ma non per un fattore di rivalità. È perché io da che ho ricordi, la Lazio ragazzi, quante volte è arrivata in Europa League? Cioè veramente io penso che ci siano due o tre squadre davanti alla Lazio nella storia dell'Europa League. Cioè la Lazio arriva sempre o quinta o sesta o sesta o quinta o quinta o sesta o sesta o quinta. La Roma non arriva seconda, non arriva decima, non arriva ottava, non arriva quarta, non arriva sesta, non arriva undicesima, non arriva seconda, non arriva quattordicesima, quindi insomma la Roma è imprevedibile. Ed è normale che insomma con questi up and down la piazza un pochino si incazzi. La Lazio c'è una coerenza nell'arrivare sempre quinti o sesti, cioè sempre in Europa League arrivavano quarti quando in Champions ci andavano tre squadre, quindi loro proprio quello fanno, quello fanno. E quindi la Lazio bene o male il piazzamento Europa League lo prende, lo prende sempre. Quest'anno non lo so, magari arriva in Champions, magari arriva sotto l'Atalanta, arriva in Conference, non lo so. Però la competizione europea la gioca sempre, quindi alla Lazio c'è meno pressione. Ecco, credo che in questo senso qua Cumbulla avrebbe fatto meglio, a Roma c'è poco spazio. E per quanto credo che un Cumbulla responsabilizzato potrebbe far bene anche a Roma, Mourinho non lo può vedere. Quindi per quanto mi riguarda mi dispiace, ma la porta è quella. Cederei ufficialmente anche Shomurodov, non mi sembra che a Spezia stia facendo chissà cosa, a parte è arrivato da tre partite, però non mi sembra che stia facendo chissà cosa. E poi penso che se dovessimo riuscire a monetizzare con Shomurodov sarebbe ideale. Un altro calciatore che per me la Roma deve cedere come Supero è Svilar, perché raga mi dispiace, mi dispiace, ma Svilar non è quel tattico brillante che pensavamo, a parte gli scherzi Svilar. Io già da quando è arrivato non ero molto contento della scelta, perché è vero che Svilar fece una partita clamorosa contro Mourinho, fu scelto per questo, però in quella stessa partita poi Svilar fece quella papera, che non so se ve lo ricordate, bloccò un pallone, indetreggiò per lanciarlo e se la buttò dentro da solo. E quindi suonò l'orologetto dell'arbitro. Cioè questa è una cosa che è imperdonabile. Ma poi in generale quando l'abbiamo visto non ha mai fatto bene, e visto che Rui Patrisio, tra amichevoli eccetera, e qui visto che Rui Patrisio gioca sempre ma ha 34-35 anni, a mio avviso bisognerebbe anche iniziare a pensare a un sostituto. Cioè un sostituto per me sarebbe l'ideale. Poi c'è, ci sono due nomi. Il primo, per me è un grande dispiacere, ma penso che sia arrivato il momento di dirgli ciao, ed è quello di Camarà. Io vi dico la verità, quando ho visto Camarà, per un po' di dinamismo, per un po' di velocità, per il fatto che arrivava senza alcun motivo, no? Cioè senza alcun motivo, il motivo c'era, ovvero l'infortunio di Vinaldum, però arrivava senza alcuna aspettativa, e invece tutto sommato il suo l'ha fatto, ecco io Camarà me lo sarei tenuto. Però ragazzi il campo parla da sé. Camarà non gioca nemmeno più un minuto, perché se gioca un minuto, solo un minuto, Camarà ha l'obbligo di riscatto. Quindi visto che la Roma vuole scegliere, vuole scegliere di riscattarlo, e penso che lo riscatterà, e visto che è tornato Gini Vinaldum, a meno che non ci sia un'altra catastrofe enorme, Camarà non verrà riscattato. E quindi un saluto anche a Camarà. L'ultimo nome, quello ufficiale, che non finisce nella mia lista dei partenti, ma sul quale secondo me sarebbe doveroso riflettere, quantomeno riflettere, risponde al cognome di Rick Carsdorp. Allora, l'allarme Carsdorp è rientrato. Però lì c'è un giocatore che a me piacerebbe di più di Carsdorp. Mi piacerebbe di più perché credo sia più funzionale per la Roma e per un eventuale 3-4-2-1. E poi perché seguirebbe l'idea, che adesso la vedrete, di una squadra rivoluzionata italiana, ma non italiana sotto il punto di vista italiano, perché secondo me di italiani ne ho presi pochi, forse ne vorrei pochi, giusto un paio, ma al di là degli italiani, una squadra di calciatori che giocano in Serie A e che quindi già conoscono la Serie A. E soprattutto giocatori rampa di lancio. Rampa di lancio, modello Napoli. Giocatori Serie A, modello, anche la prima Juventus che andava sempre ad investire nel nostro campionato per prendere già calciatori pronti. E c'è un calciatore che, chiamatemi scemo, a me piacerebbe sulla fascia al lippio di Carsdorp. Quindi vi dico la verità, adesso Carsdorp verrà reintegrato, già è reintegrato, già gioca e tutto quanto. Però dopo quello che è successo, ok le scuse, ma credo che Murigno veda con un occhio di riguardo, se licca. Quindi se dovesse arrivare un'offerta quantomeno accettabile per Carsdorp, io penso che sia il caso di farlo partire. Partiamo però da un discorso relativo al viceportiere. Ha fatto malissimo Cragno, l'altro ieri, quando è stato ieri, l'altro ieri credo. Ha fatto malissimo. Ha giocato, si sapeva avrebbe giocato al posto di Di Gregorio e ha fatto schifo. Io non lo so perché. Cioè io tutto il percorso... Allora, Di Gregorio ha fatto i miracoli sempre, quindi era difficile togliergli il posto, li ha fatti in Billy, Faina, quindi insomma è chiaro come questo potrebbe, questo basterebbe per spiegare il motivo per cui Cragno non gioca. Però Cragno per me come vice di Di Gregorio è un portiere che meriterebbe un pochino di spazio. E visto che sta facendo il vice a Monza e visto che ce lo ricordiamo benissimo a Cagliari, io se ci fosse, se ci fosse, faccio il meme, la possibilità di prenderlo come vice Rui Patrisio, a me Cragno non dispiacerebbe. Cioè io credo che potrebbe dare una grossa mano alla Roma, ma soprattutto voi dovete pensarla in ottica rinforzamento. Tu lì, chi avevi? Avevi di svilare. Per me andare a prendere Cragno potrebbe davvero essere un'occasione. Poi magari faccio a far cagare, ma tanto c'è mi svilare, cagare per cagare, a questo punto mi tengo a svilare, cioè mi prendo Cragno e non mi tengo a svilare. però comunque è un investimento che per me potrebbe valere. Poi c'è un nome che vorrei assolutamente. Il suo nome è Baschirotto. Allora Baschirotto lo vogliono tutti. La cosa bella di Baschirotto è che a mio avviso arriverebbe come titolare, cioè come panchinaro, scusatemi. Arriverebbe come panchinaro. Potrebbe tranquillamente scalare le gerarchie, però arriverebbe come panchinaro. Ed è chiaro come in questo momento non vale quei due, tre, quattro milioni che dice qualcuno, però una cifra vicina ai dieci milioni secondo me il Lecce potrebbe anche dartelo. Considerando che Baschirotto è diventato un, oltre che un meme per il gran fisico che hai, per un calciatore è strano, no? Fa il fatica a vedere calciatori con il fisico possente. Però, insomma, un giocatore centrale, un giocatore tutto tondo, un giocatore davvero importante per il Lecce ha dimostrato di esserlo con caparbietà e con intelligenza. Allora, la mia provocazione è questo Baschirotto per la Roma come calciatore che arriverebbe al posto di Cumbulla non può far meglio? A mio avviso sì. E io lo prendo, lo prenderei come vice e secondo me si merita da giallorosso a giallorosso tra l'altro si meriterebbe anche una piazza importante. Non che il Lecce non lo sia, Lecce è gran piazza, io amo il Lecce, però ovviamente la Roma punterebbe a qualcosa in più del Lecce e per me potrebbe tranquillamente scalare le gerarchie, però io qua sogno che la Roma vada ad investire anche altri soldi per prendere un difensore centrale. Allora, io sono, io ho un problema rispetto a tutti gli altri romanisti. A parte, vabbè, premessa, se vogliamo giocare a tre dietro ce ne servono cinque, in questo momento io sto considerando Mancini, Smalling, Ibanez e Baschirotto abbiamo perso Vigna che faceva il bracciato di sinistra ed è arrivato al suo posto Llorente. Non riscatto Llorente, vendo anche Gumbulla, quindi Baschirotto arriverebbe al posto di Gumbulla. Un difensore che vorrei, non ve lo nego, è Scalvini. Ora, Scalvini costa 30 milioni di euro, se ti dice bene ma anche 40, però questo è un investimento che io mi auguro che la Roma faccia. E vi dicevo, io sono strano a differenza degli altri romanisti perché, allora, io credo che la difesa Ibanez, Smalling e Mancini non sia abbastanza. Nonostante stia facendo bene credo che non sia abbastanza. Però ve posso dire, io credo che l'anello debole e mi dispiace dirlo perché poi i romanisti non lo pensano, però ognuno poi ha il proprio pensiero, quindi io rispetto il vostro, voi cercate di rispettare il mio. Io credo che il tassalo debole sia Ibanez. È giovane, è di prospettiva, è tutto quello che vi pare a voi, ve lo giuro, tutto quello che vi pare a voi. Sì, però poi fa quelle cazzate che si perde in un bicchier d'acqua anche contro il Lecce proprio se non sbaglio ma sto pensando col Salisburgo. Non va a chiudere, c'ha la marcatura sempre leggera, spaglia sempre, cioè su ogni gol c'è sempre l'errore suo. Poi qualitativamente niente da dire che sia un calciatore che secondo me se vai in una piazza che gli dà spazio e che, no, a Roma gli dà spazio, che punta sulla sua qualità niente da dire, esploderà. Però io Ibanez me lo terrei. Però a me tra i due cioè piace più l'annello debole Mancini che te gonfia come una zampogna che ce la mette tutta che se tu lo superi ti sbraga prenderà tanti gialli ma chi se ne frega non c'è come un panchino inzaghi che lo toglie appena prende il giallo. Però lui te mena cioè Mancini io vi giuro raga io vi dico la verità allora delle cazzate le ha fatte anche Mancini però io faccio fatica a ricordarmi difensore cioè faccio fatica a ricordarmi cazzate enormi tante fatte da Mancini perché Mancini sa benissimo che lui tecnicamente è un discreto mestierante però se tu lo superi lui ti sbraga punto prenderà il giallo verrà ritrarguito ritrarguito dall'arbitro va bene tutto però lui se tu lo superi ti sbraga e per me questa è una qualità in una difesa della Roma qualitativa come quella con Smalling e con un eventuale Scalvini per me quella di Mancini è una qualità comunque io vedrei benissimo Scalvini o Mancini Smalling e i bagni questo baschi rotto questa sarebbe un po' la difesa che vedrei della Roma detto questo arrivando a centrocampo la situazione è abbastanza semplice perché comunque tu hai Gini Wijnaldum che io penso possa davvero essere l'acquisto più importante del calcio mercato invernale della Roma Cristante che vi piace? non vi piace? Cristante ragazzi fa sempre il suo poi sì magari tecnicamente non è 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 però a mio avviso Cristante fa sempre il suo quindi non ho nulla da dirgli e poi Matic che tra l'altro sta uscendo alla distanza visto però che Matic ha più anni che che trofei e ha vinto discretamente nella sua carriera io l'investimento Frattesi lo farei sì è vero Frattesi è un giocatore che insomma non si troverebbe secondo me benissimo in questo contesto Roma perché lui è una mezzala è un Cristante dell'Atalanta quindi per farlo venire a Roma e per renderlo mediano perché la Roma giocherebbe col doppio mediano bisognerebbe fare una trasformazione lunga 4 anni come è stata quella di Cristante perché Cristante ma è diventato questo ci ha un ammesso di tempo però per me Frattesi è un'occasione che non puoi perdere tu hai la percentuale sulla rivendita anche a te stesso lui vuole la Roma lui ama la Roma cioè quindi sarebbe perfetto riuscire a prendere un calciatore come come Frattesi poi i titolari per me sulla carta rimarrebbero comunque Matic e Vijnaldum con in panchina Cristante e Frattesi però questa è una mossa che farei sulla tre quarti tra Dybala Pellegrini e Solbakken che io terrei poi a un meme quindi mi piace tantissimo andrei a prendere un calciatore che in realtà è stato paragonato spesso a Dybala e che a me fa impazzire esce da quell'Empoli delle meraviglie con Aslani che poi va all'Inter e ovviamente sto parlando di Baldanzi quest'anno Baldanzi sta facendo ballare la samba praticamente a tutti gli avversari sulla tre quarti è un giocatore che ha anche il vizio del gol è un trequartista completo a Roma sarebbe il perfetto vice Dybala poi ti trovi il tuo spazio te lo devi costruire però secondo me con Dybala i pellegrini sulla tre quarti e come vice sul Bacca e nei Baldanzi sarebbe tanta 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 roba a sinistra va bene così tra il Sharawi che però può giocare anche trequartista tra Zaleschi tra questo Leonardo Spinazzola l'abbiamo visto tre giorni fa non farei nulla arriviamo a destra perché arriviamo a destra? tra l'altro sto facendo un piccolo mercato però non è un mercato che farei cioè non è quel video lì che poi comunque uscirà a giugno è semplicemente una mia idea poi le idee cambiano durante l'anno il percorso cambierà ecco a destra se arriva l'offerta giusta come vi dicevo e Karlsdorff dovesse partire io Selic lo farei alternare con un calciatore che a me piace tanto io non so non so quanto possa far bene a Roma non ha mai fatto il grande salto ribusserei di nuovo al al Lecce e prenderei Strefezza cioè Strefezza è in realtà un giocatore che gioca al Lecce però lui per caratteristiche è tipo un El Sharawi cioè lui sa fare la doppia fase lui ha fatto l'esterno delle volte in carriera da ragazzino ha fatto anche il terzino cioè per farvi capire è un giocatore che veramente ha un El Sharawi a destra e che quindi darebbe quella versatilità di metterlo ala cioè tu puoi tranquillamente giocare con 3-4-3 con Selic e davanti Strefezza Spinazzola e davanti El Sharawi oppure 3-5-2 e mettere da una parte Strefezza e dall'altra El Sharawi o da una parte Zaleschi Spinazzola e dall'altra Selic cioè per te è completamente indifferente e questo darebbe una versatilità non indifferente a José Mourinho chiudo con l'attacco in attacco vi dico la verità io rimarrei così io lo dico da diverse partite non solo per il gol ma ha durato qualche giorno fa ma lo dico da diverse partite Belotti io me lo terrei come vice Abram mi terrei anche Abram mi terrei anche Belotti a me non dispiacciono Belotti è un lusso averlo preso a parametro zero un vice Abram come Belotti a zero per me è veramente veramente un lusso però se ci fosse la possibilità di investire due spicci per un giocatore che andrà in scadenza quindi prenderlo pagandogli solamente il contratto perché poi comunque Mourinho l'ha fatto il doppio attaccante con Abram e con Belotti quindi averne un terzo tutto sommato soprattutto se dovesse accadere il miracolo che va in Champions e quindi avere tre competizioni dove devi giocare fisso con la testa col cervello ecco io proverei a fare un tentativo per prendere Ciupo Moting perché Ciupo Moting anche adesso al Bayern sta facendo bene ovunque gioca fa bene è un attaccante con un'esperienza inaudita ma nessuno gli dà quella certezza che comunque meriterebbe tutti lo mettono come quando c'è un attimo un buco lo facciamo giocare ovviamente anche qua arriverebbe per alternarsi con Belotti con Abram però poi se dimostri e visto che a me ricorda molto Olivier Giroud io farei quella trattativa lì andando a prendere Ciupo Moting e quindi per fare un breve recap Cragno Scalvini Baschirotto Strefezza Frattesi Baldanzi e Ciupo Moting difficile quasi impossibile ma per me questa Roma potrebbe tranquillamente l'anno prossimo fare benissimo qualora ci qualificassimo in Champions o vincere l'Europa League qualora andassimo in Europa League e magari lottare per i primi posti ok ok